Quello che manca e che comunque abbiamo visto anche dalle recenti proteste e dalle recenti cose è uno strumento che filtri le esigenze per esempio delle attività produttive o dei temi dell'ambiente o del tema per esempio delle politiche sociali, del tema dei bonus, tutte queste situazioni e anche rispetto alla mobilità. Quindi tutto un altro aspetto che la task force non tratta e che non ha come mandato e che può essere complementare e di cui soltanto i consiglieri possono essere da filtro perché noi siamo in costante contatto con la città. Quindi in realtà si tratta di uno strumento consigliare che è previsto dallo statuto del regolamento che vada ad agevolare, alleggerire e abbreviare i tempi anche di dialogo con la città.